Quando stavo bene, quando scoltevamo me Oh oh oh, in autostrada, per caso me amai E ti ripenso ai giorni dolci Quando studiavo qua Stai quando ti sentivo solo qua Non sono ancora la calcola, ripendo Io volevo solo portarti a letto Signora! Signora, buongiorno! Ma da quando è venuta a abitare di fronte a casa mia? E io credevo che non ci fosse nessuno Sono contenta! Come? Ah, la musica! La spengo subito! Mi scusi tanto, eh? Ma io, quando sono sola in casa, se non ho la musica bella sparata Mi viene la voglia di impiccarmi E così, in ogni stanza vado alla compagnia Come? No! No, in camera da letto no! Là ho il televisore Sempre acceso Adesso stanno trasmettendo una messa Cantata In polacco Che lingua! Non ci si capisce niente Sì, 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 sì Mi piacciono anche i non ballabili Purché sia musica Il rumore mi tiene compagnia E lei come fa a tenersi compagnia? Ha un figlio Che fortunata Oddio che stupida Anche io ce l'ho a un figlio Anzi no Io ne ho due Oddio mi scusi tanto, eh? Ma per l'emozione di parlare con lei me ne sono dimenticata uno No No, non mi fanno compagnia Ma io non mi lamento, eh? No Io sto bene in casa mia Non mi manca niente E il mio marito Mi tiene come una rosa nella serra Ho tutto Dio, quante cose ho, signora Ah sì, ho il frigorifero No Non lo so che il frigorifero ce l'hanno tutti Ma il mio fa il ghiaccio a palline E poi ho La lavatrice 24 cicli Lava e asciuga Ma sapesse come asciuga, signora? Mi tocca ribagnarli i panni per quanto asciuga E poi ho Il frullatore La pentola a pressione La musica in tutte le stanze E che cosa devo volere di più dalla vita io? Dopotutto Sono solo una donna Come? La donna? Sì Ce l'avevo A ore Poi però è scappata Poi ne è venuta un'altra Ma è scappata anche quella Scappano tutte le donne in casa mia Come? No No, 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 signora Non per me Per mio cognato Le toccava tutte Proprio lì È ammalato, sa? Morboso? Ma io non lo so se è morboso So soltanto che Pretendeva certe cose da queste signorine E loro giustamente si ribellavano Eh, vorrei vedere lei, cara signora Che è in casa che fa i lavori E tra che te Ti sei fitta Che ha la mano sotto Che strizza Che poi vedesse che mano che c'ha mio cognato Meno male che ne ha solo una No No, ma che cosa ha capito? Un incidente Eh Un incidente in auto Pensi, così giovane Trent'anni Si è rotto tutto Sì È ingessato dalla testa ai piedi E l'hanno ingessato in posizione seduta Quella è stata una gentilezza del primario E gli hanno lasciato fuori un buchino Per mangiare e per respirare Di parlare non se ne parla E poi Gli hanno lasciato fuori la mano toccacciona Che è rimasta sana Ed è rimasto sano Oddio signora Ma Ci conosciamo da così poco tempo Non vorrei che poi lei pensasse male di me È rimasto sano Lì Come è rimasto sano lì signora? Anche troppo, guardi C'è sempre voglia di Lei mi capisce Come? Mio cognato? A me? No signora Mio cognato mi rispetta come? Ci mancherebbe altro Il mio cognato Prima di allungare la mano A me me lo chiede Me lo chiede sempre Il telefono Deve essere mio marito Chiamo sempre a quest'ora Scusi un attimo Sì? Pronto? Vaffanculo stronzo Scusi la parolaccia Eh ma quando ci vuole ci vuole No 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 Non era mio marito Ci mancherebbe altro E non lo so chi sia È un porcone telefonico Mi chiama una, due, tre mila volte al giorno Ma mi dice delle zozzerie signora Ma delle parole Che non esistono nemmeno sul vocabolario Io li ho cercate sullo zingaretti Ma non ci sono Come? Ammalato? Oh senta signora E un ammalato in casa ce l'ho già E mica sono l'infermiera Di tutti gli sporcaccioni d'Italia Io Eccolo Questo è di nuovo lui Adesso senta come lo tratto Non lo faccio nemmeno parlare Pronto parco? Ti volevo avvisare Che il mio telefono È controllato dalla polizia Ciao È il mio marito Sì No No, no No caro Non ce l'avevo con te No, sì È che C'è un signore Che chiama sempre E chiede di te È arrabbiato con te Dice che Tu gli devi dei soldi E allora io ho detto Polizia Per spaventare In casa? No Aldo Sono in casa No Ma ti giuro che sono in casa Ma come faccio a uscire Se mi chiudi in casa a chiave? No Signora Eh? No, sì Sono Sono solo No Ho detto signora Perché ogni tanto io Tra me e me Mi chiamo signora Sì No, non c'è nessuno C'è C'è tuo fratello Ma non è qui Sì Il bambino dorme Sì Ha fatto la pipì Sì Anche tuo fratello Ha fatto la pipì No Non mi arrabbio Ti volevo dire Che puoi stare tranquillo Perché in casa Hanno tutti fatto la pipì Sì Ciao No Aldo Sì Sono felice Sono felice Aldo Ero qui Che rammendavo E sorridevo Sono felice Sono felice Ha sentito? Gli ho Gli ho dovuto dire È una bugia Eh no No Lui non lo sa Del porcone telefonico Che va a finire Che se lo sa Se la prende con me No No Lo so Che io non ho colpa Però Lui dice Che se insistono È perché sentono Che io mi turbo Si accitano di più E insistono Col masturbo Ma magari Mi leva pure il telefono Già mi tiene prigioniera In casa Come? No È che La mattina Quando esce Chiude Per la spesa La fa lui Ma se succede qualcosa Signora Lui chiama ogni tanto Ma Ma che cosa vuole Che succeda? La mia è È una famiglia tranquilla Scusi un attimo Eh T'ho visto Sa? No guarda che È inutile Che ti nascondi Perché io vedo Il binocolo Che brilla nel sole Eh? No signora È la finestra Sopra la sua Lei non lo può vedere Pure il guardone Mi ci mancava oggi Ma io non lo so Ma una povera donna Non può stare un po' In desabiliere In casa sua A fare lavori di casa? Eh? Per colpa di quello Bisogna farli con su Con sul capotto Con gli sci Con il posto a montagna Come? La polizia No 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 non la chiamo La polizia No vuole sapere Che cosa succede Signora Vengono Stendono Un bel verbale Vogliono sapere Fino a che punto Io fossi nuda O vestita in casa mia Se Se ho provocato Il guardone Con delle danze erotiche No 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 Cioè Va a finire che Io e soltanto io Mi becco una bella denuncia Per attioscene In luoghi privato Però è esposto al pubblico No no Io me la cavo da sola Valentina Lodovini Intanto complimenti E poi Facciamo un punto Questo testo è stato scritto 43 anni fa Sembra scritto ieri Sembra scritto due giorni fa E' stato scritto nel 77 Esatto E beh bisogna veramente meditare E questo spettacolo Lo potremo vedere Appena tutto ripartirà Sì anche perché A Maria le succedono Tantissime cose Non solo a lei Sì che ne vale la pena Ne vale veramente la pena Grazie mille Valentina Lodovini Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti